14 luglio 2022, spettacolo teatrale Agamenone di Vittori Alfieri, presso l'auditorium a Catanzaro alle ore 20.30. 16 luglio 2022, concerto Devon Miles presso il Teatro Castello a Roccella Ionica alle ore 21.15. 16 luglio 2022, concerto di Luca Aquino presso il Teatro Castello a Roccella Ionica alle ore 22.30. 16 luglio 2022, concerto di Paul Gilbert a Piazza Matteotti a Martirano Lombardo alle ore 21. 16 luglio 2022, incontri e proiezioni tra cinema e archeologia presso il Museo archeologico di Locri alle ore 15. 16 luglio 2022, giochiamo Gol Masci presso il lungomare di Locri lato nord alle ore 19. 17 luglio 2022, concerto di Gianni De Nitto presso il Teatro Castello a Roccella Ionica alle ore 21.15. 17 luglio 2022, concerto di Alex Britti, Teatro Castello a Roccella Ionica alle ore 22.30. 17 luglio 2022, spettacolo teatrale Patres alla Villa Fiorita a Borgia alle ore 21. 17 luglio 2022, balli in piazza a Montegiordano alle ore 21.30. 17 luglio 2022, serata di balletto, ama e cambia il mondo. Piazza Portosalvo a Siderno alle ore 21.15. 17 luglio 2022, band live una fondazione Zappia Locri alle ore 22. 17 luglio 2022, manifestazione artistica e musicale al corso Vittorio Emanuele Locri ore 18.30. Continua con un buffet con un rifresco alle ore 20.30. Ci sarà una live musicale dalle 22 alle 23.30 e per finire poi il DJ set con DJ O'Melox alle ore 23.30. Giorno 18 luglio 2022, passeggiata nella memoria, la partenza Piazza del Popolo a Melissa alle ore 18. www.mesmerism.it.gov. she